mai 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 tornare prima a casa mai 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 fare sorprese mai è categorico volete essere felici non fate mai sorprese caso mai avvertite la sorpresa amore ti farò una sorpresa vengo domani alle 11 e 10 se arrivi prima aspetti fuori perché mettere nella condizione tua moglie di fuggire col suo amante e l'amante di fuggire con tua moglie così nudo per casa che se fa male dentro l'armadio con le stampelle perché mettere una condizione di andare fuori la balaustra prendere freddo magari prende gli prende un acciacco lascia fa per cosa per paura del tradimento per cosa per la gelosia per cosa cos'è mai il tradimento cosa cosa sono mai le corna famigerate corna le corna come diceva il grande che diceva le corna sono come i denti appena spuntano fanno male poi ce se magna lo diceva mio padre lo diceva era l'unica frase intera che ha detto